Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino. Sulla Fibili in direzione Firenze, code tra Empoli-Est e Montelupo-Fiorentino. Sulla corda autostradale Siena-Firenze, per lavori ci sono rallentamenti in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra Badesse e Siena Nord. Restringimento di carreggiata in corrispondenza dei viadotti Filinelle e Molinuzzo, tra Poggi Bonzi e Tavarnelle. Sulla statale 223 di Paganico, resta chiuso il tratto all'altezza di Campagnatico, a causa di uno smottamento avvenuto nei giorni scorsi. Sulla regionale Due Cassi, assenso unico alternato all'altezza del chilometro 291 nei comuni di Inpruneta e Firenze, fino al 31 maggio. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.